Ideale per capi spalla lavati con sistema wet cleaning di qualsiasi tessuto e taglia. Totalmente gestita elettronicamente. Massima precisione, stabilità e tenuta del tensionamento grazie ad un cilindro idraulico. Alta qualità del vapore per garantire una perfetta finitura. Veloce asciugamento grazie ad un potente flusso d'aria calda. Semplice da utilizzare. Pony, la migliore soluzione per lo stiro professionale.